Dopo i tavoli tecnici in prefettura, dopo le tante interrogazioni parlamentari, finalmente la questione del viadotto sente e giungerà sul tavolo del ministro dei trasporti Toninelli. Probabilmente mercoledì la delegazione molisana dei Cinque Stelle incontrerà il sottosegretario alle infrastrutture e il ministro Danilo Toninelli, ai quali presenteranno le loro proposte per ripristinare i collegamenti tra l'Alto Molise e l'Alto Vastese. Per il consigliere regionale Andrea Greco l'unica soluzione immediata sarebbe quella di monitorare costantemente lo stato del viadotto e, qualora dovessero esserci le condizioni per il transito, riaprire l'importante arteria. Il monitoraggio, a detta di Andrea Greco, potrebbe essere affidato ad una start-up molisana che produce sensori e che rifornisce le più importanti aziende al mondo. Andrea Greco ha detto abbiamo una start-up innovativa in Molise che si occupa di sensoristica e che fa sensori per le più grandi aziende del mondo. Abbiamo avuto contatti con i tecnici dell'azienda e ci hanno riferito che potrebbero sviluppare dei sensori in grado di monitorare sia lo stato di alterazione chimica del cemento sia gli spostamenti, quindi un monitoraggio costante del viadotto in modo da tenere in sicurezza i cittadini anche in caso di transito. Se vogliamo davvero trovare una soluzione, continua Greco, sediamoci al tavolo e parliamone. Noi oltre a interessare la regione abbiamo interessato anche il ministero e mercoledì abbiamo appuntamento con il sottosegretario Armando Siri e con il ministro Toninelli per parlare di questa situazione che ha gettato un'intera comunità nello sconforto.